Nel 75esimo anniversario del bombardamento del 1943, l'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, sezione di Caltanissetta, organizza un momento di ricordo all'ex Circolo dei Nobili a Palazzo del Carmine. Appuntamento venerdì 13 luglio alle ore 18. Interverranno il presidente della Proloco, Giuseppe D'Antona, e il commissario della sezione Maria Grazia Gianmorcaro, relazione di Enzo Falzone, testimonianza di Monsignor Liborio Campione. Sarà proiettato un video con foto storiche della città di Caltanissetta del tempo.